Un romantico passo, eh? La ricerca del cibo spinge gli elefanti marini a profondità che pochi mammiferi raggiungono. In questi abissi tenebrosi, la vita assume forme bizzarre e spaventose. Beh, benvenuto negli abissi. Eversione... Uccidete tutti i pinguini. Uccidete tutti i pinguini. Ma? Perché non tu stento e appena schiacciate i nostri figlioli? Vuol dire che ne faremo degli altri. Coraggio, sciacquette, ripopogliamo. Forza! Con il capospiaggio occupato, il maschio furtivo fa la sua mossa. Oh! Non posso credere che tu sia qui. Il capospiaggio ti cederà se ti scopre. E comunque, tu chissai? Sono innamorato di te e non mi importa di quello che farà. Tieni, ti ho portato un regalino. Urrà! Siamo tre amici sulla spiaggia! Aspetta, che fai, amica? La femmina comunica la sua condiscendenza con una delicata vocalizzazione. Vuoi tu... Così subito, beh, insomma, non lo so.